La polvere bianca. La bacheca nella casa dove sono avvenute le riunioni del cerchio d'oro. Nella bacheca sono conservati alcuni apporti prodotti tramite diversi medium che non erano apporti ad personam e che quindi sono rimasti nel luogo dove sono stati materializzati. Altri apporti, come la polvere bianca di Demofilo Fidani, il sacchetto che la contiene e si intravede sulla sinistra in basso, sono stati materializzati in altri luoghi. Domanda. Avete tolto qualcosa dalla bacheca dove sono conservati gli apporti? Cerchio d'oro attraverso GV Imperator. No, abbiamo solo risistemato tutto. Domanda. C'è un motivo? Imperator. Abbiamo simmetrizzato l'energia. Un modo per bilanciarla consiste anche nello spostare certi oggetti solo da un lato, non solo facendoli scomparire. Domanda. In effetti gli apporti prodotti da voi sono solo su una mensola. Imperator. Certo, perché era quella che bilanciava le altre. Grazie. 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 Grazie.